è arrivato pare il nuovo singolo di gali realizzato in collaborazione con madame e prodotto dal duo merck and cremont il brano nasce con l'obiettivo di affrontare l'importante tema del bullismo da un punto di vista inedito quello del bullo al suo interno c'è anche massimo pericolo con una gust featuring che svela come sia proprio il bullo ad essere il vero prigioniero delle sue insicurezze e dei suoi traumi gali ha raccontato che la sua collaborazione con madame è nata da una intuizione avuto in studio di registrazione dove ha capito che il brano sembrava cucito su misura per le vocalità della giovane cantante vicentina tra qualche giorno partirà il suo nuovo summer tour i concerti andranno avanti sino a settembre con la chiusura in programma a milano a ottobre poi gali darà il via anche al suo european tour che farà tappa in nove grandi città europee